Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Bollettino e sono dirigente scolastico del liceo scientifico Gramsci e di Vrea. In questo video cercherò di raccontarvi in pillole quello che abbiamo attivato come didattica a distanza in questi giorni nella mia scuola. Intanto siamo partiti dalla consapevolezza che alcuni degli strumenti che utilizzavamo fino a oggi come integrazione della didattica in presenza dovevano acquisire un ruolo diverso. La scuola aveva già una piattaforma Google Classroom installata, anche se non c'erano tutte le classi, ce ne erano solo 5 su 52, la scuola ha 1.300 alunni e 52 classi e molti docenti avevano già esperienza di utilizzo di altre piattaforme come Edmodo. Producevano dei video, li condividevano, quindi sulla condivisione del materiale avevano già un'esperienza. Non avevamo però un'esperienza di didattica a distanza consolidata, per cui il lavoro principale è stato quello di mettere insieme le esperienze dei singoli docenti per cercare di dare un quadro d'insieme a cui potessero fare riferimento tutti gli altri docenti. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo organizzato una riunione usando proprio uno di questi strumenti, cioè Google Meet. Ci siamo trovati una mattina, non è che abbiamo fatto un collegio docenti telematico, ma abbiamo fatto una riunione. Una riunione a cui si partecipava volontariamente, ma a cui ha dato una risposta praticamente alla quasi totalità del corpo docente. In questa riunione abbiamo affrontato alcuni degli aspetti critici della legislazione, abbiamo letto, abbiamo spiegato i vari DPCM, dopodiché siamo andati anche a vedere quelle che erano le pratiche che i docenti avevano già iniziato a utilizzare. E quindi partendo da lì abbiamo costruito delle sorte di linee guida, che poi sono state condivise con una circolare a tutto il corpo docente, ma anche alle famiglie e agli alunni. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo intanto trasferito su Google Classroom tutti gli studenti. Ne mancavano ancora un migliaio, abbiamo creato gli account, in modo che ognuno avesse un email istituzionale da utilizzare per le comunicazioni, per la condivisione del materiale, la partecipazione alle esercitazioni. Dopodiché sono stati anche elaborati dei tutorial per permettere ai docenti di utilizzare Google Meet, per chi volesse utilizzarlo, durante l'orario mattutino per creare delle web conference dove fare lezione, fare lezione interattiva. Chiaramente Google Meet permette appunto una web conference, quindi permette agli studenti di intervenire o di scrivere in chat, non permette però invece la registrazione della lezione. Cosa che invece si può fare con i programmi che permettono lo screencast, quindi la registrazione dello schermo e della voce del docente che spiega, quindi la registrazione di video è un po' come questo. Quindi questa è stata una seconda opportunità. La terza è data invece da tutti quegli strumenti che sono disponibili su Google Classroom per la condivisione di materiale, quindi anche materiale già prodotto dall'esterno, oppure su Edmodo. Questo perché molti docenti utilizzavano già Edmodo e quindi l'idea è stata comunque di dare la maggior libertà possibile al corpo docente di utilizzare gli strumenti che conosceva in modo da non dover formarsi in fretta e furia, ma autoformarsi in fretta e furia per usare degli strumenti su cui non era suo agio, mentre su altri invece aveva un'esperienza consolidata. I risultati? Beh, in questi giorni sono già state attivate molte lezioni al mattino, quindi nelle proprie ore di lezione i docenti fanno appunto lezioni con Google Meet, altri hanno preferito utilizzare altri strumenti, e nel bene o nel male stiamo cercando di dare un'offerta formativa in un periodo un po' strano della scuola italiana e a cui non eravamo abituati, ecco.